Allora, con Iva Aimo, braidese. Allora, questa mattina sei stato ospite qui al polifunzionale Arpino di Bra, ospite della Sebrea d'Istituto del Guala, di ragioneria come raggio, come tutti a Bra la conoscono. Partiamo da questo aspetto, visto che sei un concittadino della Zizzola, che effetto ti ha fatto parlare davanti a questa platea molto numerosa di giovani che vengono a scuola Bra? È stato bello perché sono stato invitato dal rappresentante dell'Istituto e dal professor Sacco e è stato fare un tuffo nel passato, noi di cui abbiamo studiato insieme, quindi siamo della leva. È stato molto bello perché ritornare qui in un'assemblea d'Istituto, poi al tempo ero anch'io rappresentante, è stato rivivere emozioni che mi hanno fatto fare un tuffo nel passato, è stato molto bello. Sì, non volevo dire, però appunto ci conosciamo da anni, quindi come dicevi te la classe 87 non è acqua e mi fa un po' effetto intervistarti, rivederti in un'altra veste e quest'altra veste si chiama Deliveristo perché tu stamattina sei venuto qui a parlare di questa start-up, di questo tuo progetto che mi dicevi prima adesso ti ha portato a Milano, Ivan parlacene un po' di più. Sì, insomma oggi è stato un bel momento perché c'era anche il fondatore di Commenti Memorabili che anche lui ha fatto la sua start-up e sta andando alla grande e quindi un po' era raccontare ai ragazzi che cosa vuol dire provare a tuffarsi, a mettersi in proprio e quindi è stata una bella esperienza. Io prima l'ho lavorato in questo fondo che invece investiva in start-up per 4-5 anni ne abbiamo viste tante, è stato molto adrenalinico, emozionante, poi però ti viene la voglia di creare la tua adesso poi c'è molto hype nel creare start-up digitali, tecnologiche e quindi ci siamo lanciati un anno e mezzo fa con un po' di colleghi, adesso siamo in 12 e insomma è stato duro mollare un lavoro, un posto tranquillo ma non tornerei mai indietro, è super adrenalinico, super emozionante, quindi sono molto contento come sta andando. Ecco spiegaci un po' nel dettaglio cos'è il progetto Deliveristro. Sì, ma allora praticamente è un marketplace che mette in comunicazione diretta produttori e chi vuole acquistare dai produttori quindi un po' come funziona Deliveroo o Just Eat, Foodora che tutti noi abbiamo sul cellulare che fino a 7 anni fa non esistevano e ad oggi sono esplosi, hanno spaccato in qualunque paese in Europa per ordinare direttamente dai ristoratori, Deliveristo funziona nel pezzo pieno della filiera quindi per digitalizzare l'acquisto diretto dei produttori, in Italia siamo pieni di eccellenze magnifiche chi produce la carne di fassona, i formaggi, i salumi stagionati Non dimenticate la salsiccia di bra La salsiccia di bra, però il problema è che non la puoi acquistare online per i ristoratori quindi la spesa oggi dei ristoratori è totalmente ancora come avveniva 70 anni fa quindi ancora messaggi, chiamate, telefonate ed è molto complicato se vuoi acquistare direttamente dal produttore tagliando fuori tutta la filiera perché hanno dei prodotti di eccellenza ma non sono in grado di digitalizzarsi, promuoversi e quindi questo è quello che facciamo con loro quindi abbiamo creato il Deliveroo fondamentalmente per mettere l'acquisto diretto dei produttori con un click sta andando fortunatamente molto bene, primo anno ne abbiamo già inseriti più di 6.000 prodotti 300 produttori a catalogo e ogni anno stiamo crescendo bene quindi siamo contenti, abbiamo anche vinto il premio come migliore startup sull'tech dell'anno scorso in Italia quindi siamo contenti, molto adrenalini con avventura, ogni giorno ci si alza con la battaglia però molto bello, mi piace moltissimo Qual è la curiosità o il messaggio più particolare che ti sei sentito chiedere questa mattina che ti hanno rivolto i ragazzi? Ma erano tutti molto interessati a sapere un po' come funziona, come funziona il lanciarsi, provare come funziona il mondo del startup, del venture capital in cui se ne parla molto però poi nel concreto è difficile avvicinarsi perché è abbastanza complesso in Italia ancora pochi lo fanno, mentre oramai in Silicon Valley è stata la fortuna della Silicon Valley tutto quello che abbiamo oggi nel cellulare, Whatsapp, Instagram, Facebook che sono tutti passati da questo processo di venture capital in Italia sta solo arrivando oggi però insomma stiamo recuperando quindi si possono fare le cose buone anche in Italia partendo da quello che è il vero oro secondo me, oltre alla moda, che è il cibo e possiamo veramente essere primi nel mondo se riusciamo a correre a livello degli altri paesi